Andiamo da qualche parte? No, ho capito. Tu vai da qualche parte. Esatto. Capito. Ma quanto manca? Beh, credo pochi minuti ancora. Dobbiamo per forza aspettare a bracciare? No, non per forza. Però pensavo fosse una cosa carina. No, è che siamo abbracciati da dieci minuti e cominciano a farmi male le braccia. Eh, anche a me. Quanta strada sarà? Forse c'è un'officina. La conosci? Che ne so? Magari più avanti. Sì, ma la conosci? Lo dico, magari più avanti troviamo qualcosa. Sì, ma la conosci? No, non la conosco, non ci sono mai stato. Charlotte, vuoi sposarmi? Sì, vabbè, poi inciampo le faranno dosse e mi rompe i denti davanti. Sai che belle nozze. Beh, è così. È così bisogna ammetterla. Nessuno dei due poteva definirsi una persona decisa. Posso aprire? Non ancora. Dai, che voglio vedere. Non ancora. Dai, Ernesto, voglio vedere anche io. Ci siamo quasi. Dai, cazzo, gli sono rotti i coglioni. Quasi quattro. Quasi quattro! Ho intenzione di usare la macchina? Ma no. Perché oggi si è acceso una spia e non ho idea di che cosa voglio dire. Credo che la dovrò portare dal meccanico in giornata. Penso di essere sotto shock. Credo che io. No, non è anche per idea. Anche se quella sera una decisione l'avevano bella che presa entrambi. Me ne vado perché non ti sopporto più. Non ce la faccio più a starvi accanto. Io sono un superman! Sono un superman! Vuoi sposarmi? Vaffanculo! È ancora un po' scossa. La tua ignoranza non è mai stata un problema. Ma io non sono ignorante. Imitazione. Chiamala come vuoi. Ma è per te? Ma chi ne so? E rispondi, no? Tua madre? Mamma! Che sorpresa! Come va? Anch'io ti voglio bene. Ti saluta mamma. Ah, non riesce ancora a dormire la notte. Fantastico! Ricambia. È iniziato a piovere. E non smise mai più. Grigio Vagabondare Della ragione Niente soluzione È una lieve anomalia Solo una vena in te Vitro Grigio Noia mortale Tempo incerto E io sto uguale Uggh Tempo incerto E io sono